È un'estate sempre più social, su Instagram spopolano le foto di belle ragazze in pose sensuali, ma dietro questi scatti si cela un dramma, quello dei fidanzati. E' cominciato tutto con una semplice richiesta, mi fai una fotina per Instagram? Io ho detto di sì, da lì la situazione è precipitata, trova la luce giusta, l'angolazione migliore, metti di qua, strati per terra, sali sull'albero. Io adesso ho il coraggio di espormi, ma ci sono tantissimi fidanzati che soffrono in silenzio. Prima di mettere un cuoricino a una buona su Instagram, pensate che dietro quella foto ci sono tantissimi fidanzati che vengono sfruttati. Da questa sottomessa estate per oggi è tutto, a presto per altri aggiornamenti.